Buona e santa giornata a tutti voi. Oggi è un giorno importante per me. Tra poco mi metto in viaggio insieme ai miei amici Tonino e Concetta che di solito mi accompagnano per andare verso Assisi, la città di San Francesco, di Santa Chiara, ma anche del Beato Carlo Acutis. Domani, domenica, tutto il giorno sarò impegnato in questo ritiro spirituale che sono stato invitato tempo fa da un'associazione religiosa e so che diversi fratelli, diverse sorelle parteciperanno, verranno da diverse parti anche soltanto per la messa ma giusto per quella bellissima gioia ed emozione di poter pregare insieme. Oggi sono io a chiedere a voi una preghiera che la strada sia libera da pericoli, che tutto sia fatto nella volontà di Gesù e di Maria, che la mia bocca sia benedetta, le mie mani siano benedette, i miei piedi siano benedetti e che il Signore si possa servire di me, della mia vita, delle mie parole per dare una parola a chiunque sarà lì a ascoltare, un gesto a chiunque verrà a pregare e possano tutti sperimentare l'amore misericordioso di Gesù. Quindi oggi non ci saranno dirette, mi dispiace, però voi sarete con me, io questo ne sono super convinto e sicuro. Ma affidiamo al Signore questo sabato, affidiamo al Signore questo fine settimana, sono giorni di riprese anche parrocchiali, ho sentito tanti amici sacerdoti, riprendono il catechismo, riprendono le diverse attività. Mi raccomando, fratelli e sorelle care, non abbandonate la parrocchia. Una mia amica la chiamava sempre il nido d'amore, la culla d'amore, perché nella parrocchia tutti siamo cresciuti, nella parrocchia abbiamo ricevuto i sacramenti e la parrocchia è la nostra casa. Se possiamo, aiutiamo i parroci, i sacerdoti, a fare bella la vigna del Signore. Inseritevi, pregate, lavorate, offrite i vostri carismi, i vostri talenti. Voi siete le pecorelle di Gesù. Non vi scoraggiate, non vi allontanate, non vi smarrite. Il Signore ha messo nel vostro cuore la sua luce e nessuno può spegnerla. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, voi siete i gioielli di Gesù. Non vi smarrite, perché viene la tempesta. No, quella passa, solo Cristo resta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Seguite i miei social oggi, Facebook, soprattutto Instagram per chi ce l'ha, perché metterò delle foto di questi due giorni belli. Vi voglio bene.